Storie di donne, storie di imprese, storie di soddisfazioni, sfide, sacrifici, storie che dimostrano che ce la possiamo fare. Nasce da qui in narrazione di imprese femminili, il format della Camera di Commercio Chieti Pescara, ente all'interno del quale opera anche il Comitato per l'imprenditoria femminile. Mi presento, sono Bianca Saquella, presidente della Saquella 1856 SRL. Ci occupiamo di caffè, siamo una torrefazione, una torrefazione che fa caffè da cinque generazioni. In realtà quello che noi facciamo è sostanzialmente esportiamo un made in Italy, un'abitudine degli italiani, un'abitudine quotidiana. Facciamo il caffè espresso, quindi viviamo tutta questa storia del chicco dalla materia prima al prodotto finito. Questo è un viaggio bellissimo, molto lungo, che attraversa tanti paesi e che riusciamo a completare, a rendere questo nostro mestiere un'arte. Siamo una famiglia e direi anche una bella famiglia. La nostra azienda è composta da mio padre, che è uno dei soci dell'azienda, insieme a mio zio, che però adesso non c'è più. E adesso il timone è passato a me, mia sorella e mio fratello. Lavorare in azienda, non vi nego che ha le sue criticità, cioè il passaggio generazionale l'abbiamo vissuto tutto. Io ormai sono un po' fuori dal passaggio generazionale perché lavoro in azienda da più di vent'anni. Da quando ho finito il mio percorso universitario sono entrata subito a lavorare alla Saguella. L'ho vissuto come un passaggio del tutto naturale. Non ho mai pensato durante il mio percorso di studi che cosa avrei fatto di diverso se non lavorare nell'azienda di famiglia. Ma questo perché? Perché io ho respirato sempre l'aria della torrefazione dell'azienda. Io mi ricordo, ecco, da bambina in questo periodo finiva la scuola, io andavo a trascorrere il mio tempo libero alla Saguella, giocavamo in mezzo ai sacchi pieni di caffè, nei magazzini, ci interfacciavamo all'interno nella produzione con tutti gli operai. Quando un'azienda poi è così piccola, o comunque era un'azienda media, anche i dipendenti diventano parte della famiglia e quindi eravamo proprio a casa e quindi io durante tutto il mio percorso di studi ho sempre pensato e desiderato, e questo poi si è avverato, di lavorare in azienda. Bellissimo lavorare con i fratelli, bellissimo lavorare con mio padre, che per noi è una grandissima guida. Non mi nego che comunque ci sono delle criticità che però ti aiutano a crescere, ti aiutano a formarti e quindi ti migliorano e l'aiuto dei fratelli ti fa vedere magari e superare determinati ostacoli con una grande forza. Siamo una media torrefazione, siamo una media torrefazione. Di torrefazioni in Italia ce ne sono tantissime, siamo circa 700 torrefattori e questi si dividono in piccoli, medi e grandi. I grandi sono i leader del mercato. Noi siamo una bella realtà, una media azienda di torrefazione italiana, il nostro prodotto viene utilizzato il 50% del fatturato Italia e il 50% del fatturato estero. Puntiamo molto sull'estero perché il nostro processo di internazionalizzazione è iniziato già negli anni 70 e quindi abbiamo un grande know-how per sviluppare anche l'ingresso in questi nuovi mercati. Devo dire, noi lavoriamo da tanti anni, siamo molto presenti e siamo un marchio molto riconosciuto per il mercato tedesco, per il mercato statunitense. Adesso sono da 3-4 anni, purtroppo la pandemia non ci ha aiutato, che eravamo entrati bene nel mercato cinese. Il nostro prossimo obiettivo è il Giappone e comunque il nostro prodotto, esportare il nostro prodotto all'estero è un grande punto di forza per noi. Anche in questo periodo ci ha permesso di lavorare sempre, nonostante la pandemia abbia chiuso gli esercizi pubblici, cioè bar, ristoranti, ma avendo noi la possibilità di lavorare in tutto il mondo abbiamo lavorato a effetto onda, cioè chiudeva un mercato però magari apriva un altro e quindi anche questo ci ha aiutato molto in un periodo di difficoltà. Il mio nome è Francesca Ruffo e il nome del mio negozio è Gioconda. Mi piace perché è un nome giocoso, però allo stesso tempo un po' vintage, un po' retro, un po' come il mio gusto, insomma. Anche perché il mio negozio è un negozio abbigliamento donna, ispirato ad una donna che si piace, ad una donna, come dire, che si ama quando si guarda allo specchio, ecco. Ho 35 anni, ho lavorato per quasi 15 anni in un negozio a Megalò, e un bagaglio d'esperienza davvero importante. La mia passione però è nata da quando ero molto piccola, proprio vendevo i vestiti di mia madre dall'armadio, sai, quelle cose che fanno le bimbe, no? Oppure, non so, mi facevo dare la calcolatrice, quella col nastro, quello di una volta, e lo utilizzavo come cassa. E questo, questa è la mia passione per l'abbigliamento, per tutto ciò che è, come ti posso dire, divertente però, che fa stare bene, ecco, una donna sempre. Mi sento coraggiosa, ma non troppo, mi sento di aver fatto ciò che sentivo. In una situazione, cioè, mi sono ritrovata, sì, con il lockdown, mentre stavo ristrutturando la struttura che poi dove all'interno ospita il mio negozio, è stata dura, però ce l'ho fatta. Cioè, sono doppiamente contenta di quello che ho fatto. In questa situazione così un po', diciamo, difficile, sia per ogni tipo di ambiente, c'è che si ha una ristrutturazione, fare degli acquisti, comunque ponderati, non è sempre facile. E adesso lo era ancora di più. Posso dire di crederci, di crederci sempre, nonostante tu dici non ce la faccio coi tempi, non ho mai tempo, invece no, si trova sempre. La forza si trova sempre di realizzare un sogno, un obiettivo. Se ci credi veramente, lo raggiungi. Il mio sogno è avere un brand tutto mio, quindi far diventare Gioconda, proprio un brand, un marchio riconosciuto in Italia, va bene, non si sa mai pure all'estero, però, un brand italiano soprattutto, che rappresenti l'Italia, che rappresenti le donne. Ma le donne, qualsiasi donna, cioè dalla ragazza di 20 anni fino alla signora di 50, 60, che a cui piace la moda. Grazie.